Scusi signora, sono la nuova maestra Giulia Tedeschi. Ma che fate? Partite pure voi con tutte le altre maestre. No, ma le altre maestre sono state mandate, io ho scelto di venire qui. Piacere, ciccio Italia, detto un poeta. Qui si studia per passione, mica perché sembra qualcosa. Ma cosa sta dicendo, scusi? Che dico, la verità dico. Qui siamo noi, giù in Calabria, e qui su c'è la Lombardia, dove sono nata io in una città che si chiama Como. Disturbo? Un poco di pane, formaggio? Magari non fumate fuori dal paese, se non pensano cose che non devono pensare. Tutti cercano un posto dove vivere, invece è importante trovarne uno bello, dove morire. Ma delle volte nella vita le cose cambiano, eh? Magari cambiassero, magari. Forza, forza! Cosa state facendo? Ma chi vi ha detto di alzare? No, è che stiamo costruendo una strada per la marina, allora sono venuto a darci una mano. Ma giusto oggi, poi domani tornano in classe. No, io preferisco che tornino oggi. Ma che mi è saltata in testa? Non avete nessuna autorizzazione per poter costruire una strada. Figlioli, c'è una sorpresa! Guardate che bella, ci siamo tutti. Cato, non si fanno strati, capisci te? Poeta. Cosa vuol dire a spromonti? Monte Lucenti, la terra dei poeti. Per me è la terra degli ultimi. Modricità economiche di principali. Modricità